fratelli juventini e sorelle juventine domani andrà di scena sempre alle ore 18 perché ormai noi siamo abbonati a questo orario penoso ma non piace è un'opinione mia andrà di scena la partita di ritorno di napoli juventus all'andata abbiamo all'andata abbiamo giocato all'andata è vero ricordate c'è quella squadra che doveva venire a torino dove dobbiamo andare noi domani non si è presentata perché aveva un giocatore che aveva il covid eppure il milan si presentato con quattro giocatori il genoa con sei il parma con sette la juve con due come mai quindi sicuramente l'andata l'avremo vinta tavolino juventus napoli l'avremo vinta tavolino giusto un momento scusate sì 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 mi dicono dalla resia che grazie dei magheggi del laurentis è riuscito a far togliere la vittoria tavolino a juventus e a spostare la partita adatta da destinarsi quindi signori per la prima volta nella storia del calcio italiano per lo meno si giocherà prima ritorno dell'andata che guarda caso ritorno si gioca fuori casa non in casa quindi la domanda che io vi faccio mi faccio e ci facciamo tutti la juve si presenterà domani a napoli alle ore 18 per disputare la partita si si presenterà perché noi non siamo dei pagliacci noi non siamo dei buffoni oltretutto ci mancherà artur ma siccome non ha il covid chi se ne frega no giusto a una calcificazione che viene da lontano lo dico per quelli che sono convinti che sia stato romero ok romero ha solo dato il colpo di grazia un problema tavico che aveva già ai tempi del barcellona ma se non sapete le cose io non è che ci posso fare molto quindi quindi scrivete pure quello che vi passa per la testa tanto poi voglio dire cioè vi commentate da soli vi commentate allora quindi alla fine alla fine domani noi andremo a fare una partita che è di fatto una partita irreale surreale nel senso che giocheremo il ritorno di una partita dove non è esistito l'andata voi direte l'andata quando si gioca non c'è ancora una data perché sono tutte piene tra le coppe della juve le coppe del napoli la coppa italia in finale la juventus e la nazionale ritiri più pausa di marzo non c'è una data vabbè tanto in fin dei conti dai juve napoli possono giocare anche una partita in meno no poi se per caso la juve o il napoli sono in lotta per lo scudetto gli mancano uno o due punti per vincerlo chi se ne frega lo diamo all'intero al minano o un'altra squadra perché tanto voglio dire non c'è posto per giocarla vero dell'orentis bravo bravo complimenti tu sei veramente un bene per il calcio un bene per il calcio se ti levi dalle balle se ti levi dalle balle vai via sei un bene per il calcio perché finché ci rimani tu anche i napoletani non è che ti amino tantissimo da quel poco che ho potuto capire nei commenti sul mio canale a parte qualche fuori di testa che come a noi abbiamo quelli che dicono che agnelli è un santo quindi detto tutto insomma comunque domani sera alle 10 ore 18 la juventus andrà in campo con un centrocampo comico a mio modo di vedere comico perché sicuramente giocheranno a parte meccanini speriamo che ce lo preservi il dio del calcio giocheranno betancur e rabbio insieme e tutte le volte che hanno giocato insieme betancur e rabbio abbiamo fatto schifo schifo io parlo di qualità del gioco poi però nel calcio c'è una componente che molto spesso viene sottovalutata e che io però non considero una condizione sine qua non perché puoi averla come puoi non averla ovvero la fortuna o come dicono dalle mie parti il bus del cul no diceva anche sacchi che è romagnolo ma si dice più o meno così in romagnolo in emiliano il bus del cul pierlo pare ne abbia tanto quindi è bravo perché pierlo sta dimostrando di essere bravo di avere delle idee e se c'ha anche fortuna tanto meglio attenzione però parlando seriamente scusate se io ho messo molte ironie in questo video ma sinceramente a me l'idea di andare a giocare a ritorno senza aver giocato l'andata mi fa schifo mi fa vomitare sono cose che succedono soltanto in italia chiusa parentesi domani sera per noi sarebbe fondamentale vincere perché io sono convinto ma fermamente convinto voglio sentire la vostra opinione su questo per cortesia non sulle altre cose grazie voglio sentire cosa ne pensate su questa mia ipotesi io sono convinto che se domani sera la juventus vince a napoli torna prepotentemente in lizza per lo scudetto se vinciamo a napoli se vinciamo a napoli se invece pareggiamo diventerà interlocutore della stagione e anche se perdiamo perché voglio dire un punto avanti indietro però secondo me non perdere non perdendo terreno dal milan che continua a avere partite squallide poi finalmente dalla quarta incontrerà l'inter poi la quinta incontrerà la roma e domani ci sarà la lazio con l'inter quindi insomma noi dobbiamo cercare di vincere perché poi avremo il crottone il benevento il verona avete capito il parma dopo anche noi cominciaremo ad avere delle partite un pochettino più semplici è vero che avete fatto un bel calendarietto quest'anno è per cercare di fermare la juve bravi bravi sorteggi pilotati partite vinte tavolino rimosse e capovolte complimenti ci state provando a non farci vincere lo scudetto occhio però anti juventini occhio o tifosi di altre squadre occhio perché se vinciamo questo scudetto io che non sono un amante dello scudetto su questo canale farò una live dove si intitolerà qui la festa e festeggeremo tutti insieme io e i miei amici juventini come se avessimo vinto la champions league perché quando ci mettete il bastone tra le ruote tipo 5 maggio o tipo l'anno della grande cavalcata del decimo al primo posto è veramente un godimento senza inizio e senza fine signori e signori domani ci sarà napoli juventus io non vedo l'ora di giocare questa partita e spero di dare tre gol al napoli e di lasciarli lì dove sono non per che io qualcosa contro la squadra che non ho assolutamente nulla contro nessuno Gattuso è una brava persona ma noi abbiamo dobbiamo dare una lezione morale per la seconda volta dopo averli battuti in supercoppa a quel pagliaccio di De Laurentiis fino alla fine Forza Juve, Forever and Ever, Hubert Halles, Eternally CR7, Pirlo al tuo segnale, scatena l'inferno Grazie a tutti Grazie a tutti.